Musica Un evento dedicato alle opportunità relative agli investimenti sugli impianti fotovoltaici. È quello organizzato da Confartigianato Imprese Prato in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 16 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Prato. Autoconsumo collettivo, a che punto siamo? Questo in particolare è il titolo dell'incontro, aperto a tutta la filiera delle costruzioni e degli impianti ma anche agli amministratori di condominio. Parteciperanno come relatori Emilio Sani, consigliere d'Italia Solare, Valerio Marangolo, funzionario della Regione Toscana e Simone Tartaro, coordinatore energia dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse. Fino adesso ci siamo occupati, fino a poco tempo fa, della produzione di energia elettrica tramite rinnovabili, che avevano un sistema di scambio sul posto o di cessione a delle aziende specifiche come per esempio il GSE e seguiva tutto il suo percorso. Da poco tempo ci siamo cominciati a preoccupare di quello che può essere l'autoconsumo, cioè consumare quanto stiamo producendo e questo anche dal punto di vista di opportunità, di fondi dal punto di vista comunitari. Per quanto riguarda la normativa c'è appunto una platea di argomentazioni che saranno trattate in questa serata, in questo incontro che fa Confartegianato. C'è da precisare anche dal punto di vista normativo che Confartegianato fa parte del CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano e non appena due anni fa pensavamo di elaborare delle nuove norme sul prosumer, quindi produttori e consumatori, proprio in vista di quello che sarebbe stato un argomento di massa che avrebbe riguardato una platea importantissima di persone, quindi ci siamo preoccupati di fare delle norme ad hoc. Dal punto di vista normativo ci sono dei professionisti che accompagnano le aziende e anche i liberi cittadini a mettere in atto quella che è la figura del prosumer. È un'importantissima opportunità che ci accorgiamo che è conosciuta pochissimo, è una cosa che è ancora ignorata, giustamente perché comunque è un argomento che viene affrontato da poco. Confartegianato mette a disposizione di chiunque lo chieda i propri tecnici per mettere a disposizione le competenze per rendere un po' meno difficile l'applicazione di questa nuova figura. Con l'evento del 25 ottobre Confartigianato Prato partecipa all'iniziativa nazionale della settimana per l'energia e la sostenibilità organizzata da Confartigianato Imprese per approfondire gli aspetti tecnici e normativi della Green Economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l'offerta di nuovi servizi. La settimana per l'energia e la sostenibilità è un evento nazionale organizzato da Confartigianato che si concentrerà dal 23 al 27 ottobre. Le varie associazioni territoriali o regionali avranno l'opportunità in questa settimana di organizzare un evento dedicato ovviamente alla conoscenza, alla diffusione dell'uso responsabile dell'energia verso questa transizione green che è un po' il tema di tutti i giorni. Anche Prato si mette a disposizione dell'evento programmando un incontro, un seminario interessantissimo per il 25 ottobre in Camera di Commercio dedicato all'autoconsumo collettivo perché anche l'energia prodotta dalle rinnovabili non va sprecata, non è che è un'energia prodotta dalle rinnovabili allora possiamo tranquillamente disperderne il contenuto, ci vuole un uso razionale e con professionisti del settore avremo modo di parlarne qui in Camera di Commercio il 25 ottobre alle ore 16. Grazie a tutti